Lo decideremo nei tempi previsti che porteranno alla definizione di tutte le candidature in tutte le circoscrizioni laddove ho una responsabilità anche per Presidente del Partito Democratico Nazionale di condividerle con la segretaria Schlein. Faremo il meglio, non ho mai deciso niente da solo e quindi valuteremo insieme a tutti gli attori che devono decidere. L'importante è che facciamo ottime liste e soprattutto che cerchiamo di lavorare per portare in Europa più elette ed eletti possibili perché è la prima volta nella storia di elezioni europee dove l'estrema destra o quella sovranista e radicale potrebbe persino pensare di candidarsi e guardare istituzioni che da decenni ha tentato di demolire e quindi bisogna che salvaguardiamo la parte più progressista, riformista per cercare di dare una prospettiva all'Europa che va cambiata, va migliorata ma certamente non va distrutta.